amici del campionato amatori taranto ben ritrovati ad una nuova puntata di asi tutto l'amatoriale del calcio non so se avete potuto notare la grandissima eleganza del sottoscritto e l'avveniristico studio nuovo che il nostro nuovo regista ci ha confezionato e sì perché come ben saprete il nostro carissimo bobby chinnici è esente non c'è più è sparito la famiglia lo sta ancora cercando e non sappiamo dove sia finito ma noi non ce ne frega nulla perché insomma noi dobbiamo andare avanti the show must go on come cantavano i queen i queen scusate quindi dicevamo noi dobbiamo andare avanti con il nostro lavoraccio sporco e qualcuno dovrà pur farlo come potete vedere qui so se si vede alla mia sinistra no alla mia destra in sovraimpressione stanno scorrendo le immagini delle partite relative al mese di marzo sì perché in questo brevissimo appuntamento in questa lezio brevis eh amici e parleremo della coppa italia non si parlerà del campionato perché del campionato abbiamo parlato fino adesso ci siamo anche rotti un po le scatole parleremo della coppa italia faremo un brevissimo riassunto una puntata brevissima e coppa italia dicevamo che è entrata nella seconda fase ha esaurito la prima fase i primi due gironi sono stati vinti rispettivamente il girone a da studio rogeri faggiano e il girone b da balzi blu football club e ho detto balzi blu balzi blu amici di balzi blu non vi offendete ho detto balzi bu ma invece è balzi blu football club mi raccomando dicevamo le due squadre che hanno vinto i rispettivi gironi ormai sono volate sono state catapultate direttamente in semifinale adesso nella seconda fase è stato creato un gironcino infernale dantesco dove si scontreranno le altre otto squadre rimanenti eccezione fatta per De Santis e Star Team Kogan che sono arrivate ultime nei loro gironi queste squadre queste otto squadre si sfideranno si incroceranno si daranno battaglia si mischieranno insomma verrà fuori un mezzo un mezzo un mezzo casino insomma però alla fine di questo gironcino playoff come lo vogliamo chiamare usciranno le altre due semifinaliste che poi insomma si contenderanno il passaggio alla finalissima e della nostra amatissima coppa italia bene io brevemente vi faccio vedere facciamo passare caro regista in sovraimpressione quelli che sono che sono state le classifiche dei gironi preliminari adesso non so se il nostro regista mi dà l'ok ci sono ci sono perfetto ecco come potete vedere la classifica del girone a ha visto prevalere lo studio rogeri faggiano con 13 punti seguito da british football club a 11 punti o r infissi russano 7 il veliero amberval security 6 punti star team kogan 4 monteyasi in team 1 logicamente star team kogan ha avuto dei problemi logistici e quindi ha dovuto rinunciare al turno successivo e quindi di diritto è passato monteyasi in team eccoci amici siamo di nuovo qui nel nostro avveniristico studio e regista possiamo far vedere anche la il pannello con la classifica del girone b non so se si vede eccolo eccolo qui e come vi dicevo balzi blu football club ha vinto il girone con 13 punti anche loro sd il morso di cavallo in bocca scusate realizzano 10 punti virtus calcio taranto 8 sd gastronomia la 106 6 punti parca fefanelli 6 punti e ultimi purtroppo de santis che hanno dominato lo scorso campionato e quest'anno hanno deciso di fregarsene della coppa italia hanno giocato ma insomma i nostri amici di de santis hanno preferito fare altro bene dicevamo che adesso c'è il gironcino infernale dantesco finale e quindi vediamo un po' come è composto effettivamente questo girone anche perché sono state già giocate due gare eccola eccola qui il nostro pannellino con la classifica delle fasi finali classifica delle fasi finali che vede virtus calcio taranto e british football club a tre punti perché effettivamente sono state già giocate due gare che hanno visto prevalere come dicevamo british football club nei confronti di gastronomia la 106 per 3 a 0 e virtus calcio taranto nei confronti di il verriero amber val security per 4 a 1 restano da giocare adesso or infissi russano contro barca fefanelli e montegliasi in team contro realizzano insomma è iniziato questo gironcino finale bene cari amici come dicevamo insomma voi il regolamento lo conoscete quindi non starò io qui a spiegarlo anche perché sinceramente non ne ho nessuna voglia come voi ormai sapete io sono uno che voglia di lavorare non ne ha assolutamente vi dirò però che per quanto riguarda la targa disciplina montegliasi in team si sta comportando bene ecco i nostri amici di montegliasi sono dei bravi pischelli e sono sono corretti sono bravi sono sono anche belli devo dire la verità ci sono anche dei bei ragazzotti non sono io quello che deve dirlo ma insomma vedremo un po le nostre girls che ci seguono cosa diranno a proposito dei nostri amici di montegliasi in team bene amici ecco come potete vedere in questo momento alle mie spalle cioè insomma qui alla mia destra sta girando un video il video di un di un'intervista un'intervista che io cari amici ho fatto in quel di rock forzata ecco c'è da dire una cosa gravissima a proposito di questa intervista perché insomma come voi ben saprete in passato c'è nei mesi scorsi c'è stato uno scambio di persona uno scambio di persona a proposito di un litigio con una bandierina ecco questo questo scambio di persona cari amici potrebbe avere delle conseguenze catastrofiche per la nostra nazione per forse anche per il mondo intero ma addirittura per la galassia perché purtroppo uno scambio di persona può causare tante 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 cose dicevamo a proposito di questa intervista che purtroppo cari amici dagli studi di giusti vu è stato trafugato l'audio di questa intervista sì 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 proprio così l'audio quell'audio che avrebbe potuto dirimere la questione avrebbe potuto sbrogliare la matassa di questa intricata vicenda di questo intrigo quasi internazionale cari amici e noi scopriremo scopriremo che fine ha fatto questo audio e cercheremo di far emergere la verità cari amici e noi presumiamo che il carissimo paolo violante quello che vedete tra me e il carissimo albanese centri qualcosa secondo noi secondo sottoscritto centra qualcosa perché il frontman il il capo carismatico di british football club secondo noi la 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 sa lunga eh questi la sa veramente lunga bene amici staremo a vedere staremo a vedere staremo a vedere perché lo scopriremo lo scopriremo solo vivendo ma insomma lo scopriremo anche cosa sta succedendo in quel di virtus calcio tarato ho detto un po così ma insomma è è accaduto tutto lì in quella in quella società bene cari amici in questo momento io non so più cos'altro dirvi sinceramente non non ho più argomenti e vi do appuntamento al prossimo numero del nostro ormai leggenda ciao 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 ciao